il procedimento si mette gli spinaci dopo il lavaggio naturalmente tutto nel frullatore insieme alla polpa dell'avvocato stai pensando all'abbonamento dell'avvocato la polpa dell'avvocato il succo di carmigiano, il succo di limone, due cucchiai di olio, una presa di sale e di pepe si fa frullare tutto e si rende abbastanza si rende abbastanza o omogeneo un avvocato omogeneo poi si lezzano i fusilli con un po' di sale naturalmente troppe pause ci stanno poi si mettono quattro o cinque cucchiai di pesto ciao